Il segretario Ferracuti è stata fatta l'area vasta per la provincia di Macerata, sono state accorpate le tre zone territoriali ma a livello dirigenziale secondo lei non è cambiato nulla, invece si poteva razionalizzare e qual è l'obiettivo? Non c'è dubbio, purtroppo abbiamo creato l'area vasta ma non come unico livello ma si è sommato a livelli già esistenti che sono le zone, noi eravamo convinti che l'unico modo per essere più efficienti sia quello di eliminare e superare le zone e avere unico livello che è quello dell'area vasta, questo consentirebbe di fare delle efficienze a livello provinciale, di poter creare dell'eccellenza a servizio dei nostri cittadini. Siamo anche convinti che un'ulteriore risposta debba venire dalla politica che sia quella della costituzione di un ospedale unico che non è un'azienda ospedaliera, è un'altra cosa ma darebbe anche qui garanzie di alzare il livello sanitario. Il taglio al Fondo Sanitario Nazionale va a detrimento del personale nell'ambito sanitario e questo ovviamente ricade sugli utenti? Sì, è chiaro che ovviamente questo impatta anche con una situazione già di criticità esistente all'interno della struttura della zona 9 dove gli operatori sono ampiamente soggetti a turnazioni aggiuntive, non riescono a godere delle ferie in modo coordinato e questo incide anche sulla possibilità di un aumento del rischio clinico allo stato attuale. Quali sono le cifre? Diciamo che il dato che mi è stato fornito e del quale siamo a conoscenza è che attualmente nella zona 9 appunto sono quasi 83 mila le ore di crediti orari maturati dal comparto e di un impatto di 16.332 giorni di ferie ancora da godere partendo dal termine ultimo di novembre. Ecco quindi nel mese di dicembre siamo a questi livelli e siamo in progress, la cosa preoccupante è che non è che il fenomeno è in decrescita ma è sicuramente in aumento.